Monsignore, si sta vivendo una situazione drammatica, proprio per questo il Papa ha predisposto per domani un invito a fare una giornata di digiuno nei mercoledì delle Ceneri. L'invito del Papa è stato dato da lui domenica scorsa nell'Angelus e con queste parole in questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico, la guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada e non smettiamo di pregare, anzi supplichiamo Dio più intensamente per questo rinnovo a tutti l'invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina. Una giornata per stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino, per sentirci tutti fratelli e implorare da Dio la fine di questa guerra. Le parole che seguono, soltanto poche parole, chi fa la guerra dimentica l'umanità. Quindi è un invito che anch'io rilancio, l'invito del Papa, dobbiamo credere nella forza della preghiera, del digiuno e dobbiamo crederci. Perché il Signore attende la nostra insistenza, che è segno di grande volontà, di grande solidarietà, di grande volontà di vicinanza. Non una preghiera, una preghierina volante, ma una forte, intensa preghiera che faccia capire al Signore il nostro cuore, il nostro desiderio. Ci troviamo esattamente a due anni dall'inizio della pandemia e adesso siamo di fronte a quest'altra pandemia, perché riguarda tutto il mondo e qui siamo anche forse più smarriti, più disorientati, perché in maniera più precisa si vede che dipende dalla volontà degli uomini. E voglio anche dire che venerdì sera alle otto e mezza ci sarà una fiaccolata per la pace, organizzata dai giovani, dalla pastorale giovanile, dalla Fucci e dalla pastorale universitaria, dalla parrocchia. Ecco, un invito a essere presenti alle otto e mezza a Mercatale, per un cammino di pace che arriverà fino a Piazza della Repubblica. Stiamo forti nella speranza che questa cosa possa finire presto, anche se siamo trepidanti per quello che può essere lo sviluppo di questa tragedia. Ma noi dobbiamo essere fiduciosi che il Signore non abbandona mai.